...e un'altra famiglia di Enesi, e qualcuno mentre camminando da Piazza Umerito, a Piazza dei Garri, mi diceva ma tu sei quello che avevamo visto, ha detto fatto, non tutto, grazie a scoglie, ahimè sì, lo so, ma anche voglio ricordare come ragazzi siciliani proprio riconosciuti da che ti vissi in onda la programma condotto da mio amico Salvo La Rosa, un meraviglioso protagonista della puntata ultima è una premonda scritta esattamente sul video di internaio e anche sul SAP 823 e allora ci siamo quasi, stanno sistemando il disegno dell'estate per vedere in perina i giornalisti e il disegno che avviene in un grande salone otocentrisco, potete vedere anche oggi, chiamato come disegno della portiglia di Enesi e il disegno molto semplice, camminato, ma adesso è biologico e viene parlando anche in una piena a tutta l'occhezza di Tadeschi. Vita Enzo, ci siamo? Mi danno l'ok?